Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo con una domanda a testa, prego, comincia il canale. Buon pomeriggio, mister Andrea Colella, Juventus TV. Io le chiedo come sta la squadra e se andremo a rivedere lo stesso gruppo che ha giocato contro il Sassuolo con l'aggiunta di Gatti e Meccani che rientrano dalla squalifica. La squadra sta bene, ha fatto un buon allenamento ieri e stamattina abbiamo fatto rifinitura. Per quanto riguarda domani sicuramente saranno assenti Rabiot e Chiesa. Rabiot perché ha avuto un affaticamento sul polpaccio, quindi è meglio non rischiare perché comunque il polpaccio è molto delicato. Per quanto riguarda invece Federico, Federico ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio, di trauma contusivo e quindi verrà valutato nei prossimi giorni. Buongiorno, mister Giovanni Albanese Sport Italia. Le chiedo, è vero che in questo momento la classifica potrebbe distrarre, ma quali sono le vere insidie che nasconde il match contro il Lecce per le caratteristiche del Lecce? Grazie. Innanzitutto giocare a Lecce è sempre complicato perché vengono fuori partite non belle, difficili, scomode. Il Lecce ha fatto un'ottima partita a Milano con l'Inter, ha fatto una bella partita a Roma con la Lazio. È una squadra comunque che crea, difende molto bene e soprattutto le ultime quattro partite in casa ha fatto sempre risultati positivi. Buon pomeriggio, romeoagressigol.com. Le chiedo, mister, se in questi giorni ha parlato con Ken e se è da considerare ora a tutti gli effetti un giocatore in uscita. Grazie. Allora, ho parlato con Ken per sapere come sta. Domani inizia a correre. Per quanto riguarda se è in uscita, ne ha già parlato il direttore nei giorni scorsi e quindi al mercato ci pensano loro. Buongiorno, Giovanni Guardalasca e Sport. Le volevo chiedere della gestione degli esterni, perché abbiamo visto in inizio stagione che Cambiaso giocava sempre a sinistra e ultimamente sta giocando sempre a destra. Le chiedo se è questa la sua collocazione più giusta e se, visto che ci sono due coppie, Chiesa e UEA è cambiata da una parte e Iling e Kostic dall'altra. Oppure non è così scontata la gerarchia? Non è assolutamente scontata, perché comunque Cambiaso martedì ha giocato anche da mezz'ala, è un giocatore che è cresciuto molto, sono molto contento, è un giocatore che è sempre stato molto valido tecnicamente, ha avuto un periodo dall'inizio, un po' di difficoltà dopo la tournée estiva e ora, direi, è diventato un giocatore importante. Buongiorno mister, Filippo Cornacca alla Gazzetta dello Sport. Domani la Juventus, vincendo, andrebbe prima in classifica. Le voglio chiedere se si può parlare di Scudetto o solo di primo posto Champions? Non si deve parlare di niente, anche perché domani bisogna cercare di vincere la partita perché vincere la partita non è semplice, soprattutto vincere la Lecce. Innanzitutto noi, le ultime quattro trasferte, abbiamo preso sempre gol e quindi questo domani obiettivo numero uno è cercare di non prendere gol perché comunque saremo un pochino avvantaggiati a non prendere gol. Per quanto riguarda il discorso campionato, ancora, noi bisogna fare, mancano ancora tanti punti per cercare di arrivare alla quota Champions e quello è il nostro obiettivo. Buongiorno mister, Marco Venditti, signora Mia Calcio News, le chiedo la condizione sicuramente positiva di Vlaovic, finalmente è tornato. Ecco, se lei che ha stretto contatto con il ragazzo le chiede qualcosa in particolare come migliorare per non sbagliare come è accaduto in passaggio, insomma, in passato. Una sorta di confessione psicologica. A volte i giocatori le chiedono. Grazie. Duca è cresciuto molto, soprattutto a parte le prestazioni di campo, ma soprattutto come gioca le partite in modo molto più sereno e tranquillo e quello è un ulteriore passo avanti che lui sta facendo verso quello che sarà la completa maturità. Buongiorno, D'Angelo a Rai Sport. Ha detto che ancora si pensa partita per partita, però domani, in caso arrivassero i tre punti, virtualmente sareste primi. Quindi è pronto a cambiare paragoni, metafore dopo leppi, cacciatori, gioco di guardie ladri che tanto ha fatto discutere in settimana? Magari ha fatto divertire, però era solamente una battuta dopo in un post-gara dove ho usato una metafora di un gioco dove giocavamo da bambino perché parlavamo di una scuola che sta davanti e di una scuola che insegue. Non l'unico inseguimento che stiamo facendo è quello del raggiungimento il prima possibile della Champions, che è quello il nostro vero obiettivo. Antonio Polino, Radio Bianconera. Ti avrei chiesto anche io di questo argomento, ti chiedo a questo punto, eventualmente saltando in testa la classifica, per come conosci questa squadra, per come sei fatto, per quello che è un po' l'orgoglio del gruppo, pensi che sia facile prendere una Juve che prova a scappare, eventualmente? Parlare ora di... Andiamo in testa la classifica. Giochiamo la partita, cerchiamo di vincere perché sono tre punti importanti, ne mancano ancora tanti alla fine del campionato e sappiamo che davanti l'Inter sta facendo cose importanti, straordinarie, perché ha fatto 51 punti, è una scuola forte e ha la favorita allo scudetto. Noi, ripeto, noi bisogna fare i punti, prima facciamo i punti per la quota Champions e meglio, ecco, siamo in un percorso di crescita, ragazzi stanno crescendo, stanno facendo bene, la squadra è in autostima, stiamo bene fisicamente, ma vincere a Lecce comunque è complicato, perché l'anno scorso abbiamo vinto 1-0, perché le partite a Lecce sono sempre difficili, perché poi vincere le partite, dopo sono tutti bravi, perché dopo il risultato, ma prima è sempre complicato e difficile, vanno giocate, perché domani partiamo dallo 0-0. Buongiorno Max, Stefano Salandini, Tutto Sport, oggi su Tutto Sport abbiamo intervistato Tortu, un tifoso bianconero, e ha fatto un paragone che immagino possa trovarti d'accordo piacere, ti dice, bisogna, quando si corre, noi per fare la staffetta, comunque gli allenatori ci dicono di avere i paraocchi come i cavalli, cioè non guardare gli avversari, in questo caso non guardare a quello che fa l'Inter. Tu pensi sia una strategia giusta e poi lui dice che vorrebbe allenarsi una volta con la Juve, lo invitiamo? Ma quello non c'è nessun problema, a invitarla a allenarsi con la Juvenzo, per quanto riguarda il paragone, ci sono dei cavalli che hanno bisogno di paraocchi e dei cavalli che non hanno bisogno di paraocchi. Qual è la differenza? La differenza è che ci sono quelli che li mettono paraocchi perché quando gli arrivano cavalli vicino gli dà fastidio e quindi magari o frenano o... e allora li mettono paraocchi perché così almeno guardano solo davanti. E quindi dipende, bisogna vedere, non si sa ancora. Ma la Juve c'è il parocchi? No, la Juve non è al parocchi, la Juve è al parocchi perché l'altro giorno mi sono piaciuti come hanno giocato la partita, in che modo l'hanno giocata, con una serenità e con una sicurezza importante. Però ripeto che quello che è stato fatto fino ad oggi non conta niente. Conta quello che sarà domani sera perché dopo alla fine, come dico sempre, il calcio vive su equilibri e l'equilibrio fondamentale del calcio sono risultati perché se non fa risultato una settimana può rovinare una stagione. Siamo a metà della stagione, abbiamo un obiettivo importante davanti da raggiungere che è quello della Champions League e abbiamo la Coppa Italia ad aprire a giocare. Quindi come dico sempre poi aprire a Roma si sta sempre bene perché c'è solo una bella città. una città meravigliosa. Però bisogna pensare passo dopo passo e pensare solamente a lavorare, a migliorare con entusiasmo e con voglia senza cadere nella presunzione e nella troppa euforia. Francesco Pellino, Agenziara. Mister, con l'assenza di Chiesa e alla luce anche delle ultime sue prestazioni domani vedremo di nuovo il DIT titolare. Grazie. Domani davanti sono rimasti in tre. Vlaovic, Milik e Ildiz. Di tre ne gioca due. Milik sta molto bene, che ha fatto tre gole in Coppa Italia, ha entrato l'altro giorno, ha fatto bene. Poi abbiamo partite importanti. L'importante è, ripeto, indipendentemente da chi gioca, quelli che fanno la differenza sono comunque quelli che vengono in panchina. Perché comunque quando entrano devono dare un sostegno, un aiuto importante a quelli che sono scesi in campo all'inizio. Buongiorno Mister, Nicola Balice, la stampa e calciomercato.com volevo chiedere qualcosa in più sugli eventuali tempi di recupero sia di Rabiot che di Chiesa e cosa perde la Juve senza Rabiot? Grazie. Perde. Diciamo non abbiamo a disposizione due giocatori, ma comunque abbiamo due giocatori pronti per giocare la partita di domani, come è sempre successo. Rabiot, valutiamo, ripeto, il Polpaccio è una zona molto rischiosa, non ha traumi, però bisogna stare molto attenti. Per quanto riguarda Chiesa, valuteremo nei prossimi giorni i dottori, perché io non sono un dottore. Ancora salanti in tutto.